Allora, questa puntata di Globo è un po' speciale, perché è la registrazione di una puntata live che abbiamo fatto a Voices, la giornata con i podcast del Post che si è tenuta alle officine Grandi Riparazioni a Torino il 6 maggio. Quindi non vi preoccupate, è una puntata normale, ci sono anche i consigli alla fine. Ma se sentite qualche rumore, qualche stranezza e in generale se il tono vi sembrerà leggermente diverso dal normale, stavamo parlando da un palco. Però questa conversazione con Natalie Tocci, che è la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, ci è apparsa molto interessante e per questo abbiamo pensato di farla sentire anche a chi non c'era Voices. Mi avevano detto che con le luci non vi si vedeva, invece vi si vede e questo mi mette un po' di timore. Buongiorno a tutti, io sono Eugenio Kau e oggi facciamo una puntata live di Globo, il podcast del Post sulla politica estera, sulla politica internazionale e parliamo di guerra in Ucraina. Non è una grande sorpresa ma oggi parliamo di guerra in Ucraina che ormai è da un anno e mezzo che è iniziata e oggi vorremmo approfittare di essere qui con voi per fare un bilancio di come stanno andando le cose e in particolare vorremmo concentrare questo bilancio sull'Europa perché per un lungo periodo, soprattutto all'inizio della guerra, all'inizio dell'invasione della Russia, era sembrato che l'Europa fosse un po' il vaso di coccio fra i due vasi di ferro. Da un lato la potenza imperialista russa, dall'altro la superpotenza americana e in mezzo noi sempre un po' divisi, sempre un po' litigiosi, sempre un po' debolucci. E per un momento era sembrato che l'Europa non avrebbe retto all'urto dell'invasione russa in Ucraina e all'urto del ritorno della guerra dentro i suoi confini. In realtà l'Europa ha retto molto meglio di quello che ci aspettavamo, il mio giudizio personale di come è andata l'Europa è piuttosto positivo, ma oggi siamo qui per sentire il giudizio di Nathalie Tocci, che è direttrice dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali, che è uno dei più importanti centri studi italiani e ha avuto e ha tuttora ruoli strategici piuttosto importanti all'interno della politica estera delle istituzioni dell'Unione Europea. Nathalie Tocci, benvenuta. Grazie mille, Eugenia, sono felicissima di essere qui con voi oggi. Vorrei iniziare con un gioco. Proviamo a dare, è un po' infantile, lo so, però è divertente secondo me, proviamo a dare dei voti a come sta andando l'Europa in questi 15 mesi di guerra. Anzitutto, il voto generale. Che voto daresti all'Europa? Un sette e mezzo. Perché? Sette e mezzo perché, e poi ci arriveremo, politicamente siamo più uniti di quello che immaginavamo, energeticamente e quindi economicamente in realtà poteva essere una catastrofe e non lo è stata. Però, appunto, in realtà sotto tanti altri aspetti che poi riguardano più la sicurezza e la difesa, diciamo che si potrebbe fare di meglio. Specifichiamo un po' tutte queste cose che hai detto. Diamo un voto alla politica energetica dell'Europa. Se qualcuno ti avesse chiesto lo scorso autunno, prima dell'inverno, insomma a fine agosto, settembre, se l'Europa sarebbe riuscita a resistere, così tranquillamente come è riuscita a resistere, senza il gas russo, tu cosa avresti detto? Assolutamente no. Appunto, ci sarebbe stato un inverno freddo e costosissimo e che avrebbe poi innescato una recessione profonda, roba da far sembrare la crisi finanziaria globale di dieci anni fa, come dire, un gioco da ragazzi, e che questo poi avrebbe portato tutta una serie di divisioni, mobilitazioni sociali, diciamo che sarebbe stata una catastrofe socio-economica e quindi anche politica per l'Europa. Non è stato così, appunto, non è stato così e innanzitutto una premessa, e ricordiamo che in realtà le politiche energetiche sono di competenza nazionale e non europea. E quindi il fatto che l'Unione Europea, che in realtà appunto, come dire, da Costituzione, non si occupa in realtà di questa materia, sia riuscita a mettere in atto, diciamo, un piano di diversificazione, di coordinamento degli stoccaggi del gas, e soprattutto, e questa forse è la cosa più sorprendente, di accelerazione della transizione energetica, perché se anche, come dire, la crisi sociale ed economica, se anche fossimo riusciti ad evitare questo, quello che sicuramente ti avrei detto è, ritorna la sicurezza energetica e mettiamo completamente da parte la transizione, perché queste due cose sono comunque viste in contrapposizione, e se si investe sul marrone, se si investe sul petrolio e sul gas, si inevitabilmente investirà e si presterà meno attenzione alle rinnovabili, all'idrogeno verde, alla decarbonizzazione in senso lato. Non è andata così. In realtà, appunto, se andiamo a vedere quella che sarebbe stata, diciamo, la curva, l'aumento dell'investimento in rinnovabili pre-guerra e post-guerra, vediamo che c'è stata un'accelerazione, cosa che, ripeto, abbastanza sorprendente. Quindi voto? Dieci. Passiamo all'unità. Perché a un certo punto, appunto, fine febbraio 2022, quando la Russia invasò l'Ucraina, non era tanto sicuro che l'Europa sarebbe riuscita a rimanere unita. C'erano i paesi dell'est Europa molto sul piede di guerra, loro hanno vissuto la dominazione dell'Unione Sovietica e diciamo che hanno un po' il dente avvelenato con la Russia, ma tanti altri paesi, la Germania, l'Italia, la Francia, avevano dei rapporti molto stretti con la Russia e delle dipendenze, soprattutto energetiche, molto strette con la Russia. Per cui a un certo punto non eravamo tanto sicuri che l'Europa sarebbe riuscita a rimanere unita davanti alla sfida portata dall'invasione russa dell'Ucraina. Che voto dai a questa unità europea? Otto. Otto perché? Perché, allora, diciamo, in realtà il fatto che ci sia stato nelle prime settimane, neanche nei primi mesi di guerra, una solidarietà o un'unità politica, diciamo che stupisce relativamente poco, nel senso che l'invasione russa dell'Ucraina è stata una roba così uscena, così brutale, che voglio dire, insomma, ci mancherebbe altro che non ci fosse stato un primo momento di solidarietà. Ma in realtà io ricordo benissimo quello che era il dibattito pubblico, sia in Italia ma anche in Europa, anche negli Stati Uniti, l'estate scorsa, in cui si diceva, insomma, adesso inizia questo affaticamento della guerra, adesso iniziano queste vecchie divisioni che sono appunto sempre esistite e che riaffiorano. Naturalmente questo era messo in relazione al tema della crisi energetica, economica, che avrebbe fatto riaffiorare queste divisioni. In realtà, eccoci qua, un anno e mezzo dopo e queste divisioni in realtà ancora non sono emerse in un modo paralizzante, non sono differenze, perché esistono e continueranno sempre ad esistere differenze, cioè grazie cielo, differenze in Europa, ma non sono divisioni che hanno impedito all'Europa di agire, che poi se l'azione sia stata giusto o sbagliata è un altro discorso, però c'è stata appunto una sufficiente unità europea che è stata protratta nel tempo e anche i casi più estremi, no? Penso all'Ungheria di Viktor Orban. In realtà, che cosa è riuscita a fare l'Unione Europea in questo anno? E questa è una storia in realtà molto poco raccontata. È riuscita di fatto a inserire all'interno dei meccanismi europei forme di condizionalità economica. Quindi tu, Viktor Orban, li vuoi fondi di coesione, li vuoi i tuoi fondi del PNRR ungherese? Benissimo. Allora, devi comportarti in un determinato modo su tutta una serie di questioni che possono, naturalmente, si focalizzano in primo luogo su questioni interne ungherese, ad esempio l'indipendenza della magistratura, ma anche implicitamente hanno a che fare con il comportarsi, diciamo, il contenere gli eccessi ungheresi anche riguardo all'unità per quello che riguarda la politica nei confronti dell'Ucraina. E qui arriviamo alle notti un po' più dolenti perché vorrei chiederti di dare un voto al sostegno che l'Europa è riuscita a dare alla resistenza ucraina e in particolare il sostegno militare, nel senso che stringi, stringi, alla fine l'Ucraina deve essere sostenuta in tanti modi, ma la cosa più urgente, la questione di vieto di morte è mandare armi in Ucraina. E qui le cose forse iniziano ad essere un pochino più complicate, nel senso che ci sono state tutta una serie di ritardi, ci sono state tutta una serie di ritrosie. Ricordiamo l'ultima polemica, voi che ascoltate Morning, l'avete sentita sicuramente della settimana scorsa, l'Italia ha mandato cannoni non perfettamente funzionanti, diciamo, all'Ucraina. Ci sono state grandissime polemiche qualche mese fa perché la Germania non voleva mandare carri armati. Anche semplicemente se pensiamo a la settimana scorsa la Commissione Europea ha presentato un piano per investire 500 milioni di euro nella produzione di munizioni per la resistenza ucraina, che è una cosa buonissima, però la guerra è iniziata 15 mesi fa e Volodymyr Zelensky le munizioni le chiede da un anno. Per cui diciamo che che voto dai al sostegno europeo all'Ucraina? Allora, in realtà ti darei un 6,5 e quindi parto da il bicchiere, la parte mezza piena del bicchiere. Allora, è vero che ci sono state tutte queste deficienze e poi ci arriverò, però in realtà partiamo un po' dal presupposto da dove venivamo. Cioè, questo è un continente che di fatto si è disarmato nell'arco di decenni. La parola difesa nelle istituzioni europee era praticamente una parolaccia. Quindi, diciamo, l'idea che comunque l'Unione Europea, quindi non tanto i paesi singoli, ma l'Unione Europea utilizzasse, anzi creasse, uno strumento come appunto lo strumento che poi viene chiamato lo strumento per la pace europea che viene utilizzata per dare sostegno militare a un terzo paese in guerra, è una roba inaudita, voglio dire, non ha precedenti nella costruzione appunto dell'integrazione europea. E quindi, anche a partire anche adesso, diciamo, da quest'ultima iniziativa sulle munizioni, che ha in realtà una doppia valenza, perché ha sia una valenza immediata, no? e quindi servono le munizioni all'Ucraina, altrimenti la controoffensiva non riesce ad andare avanti, ma inizia a diventare anche, in prospettiva, una specie di prima piattaforma europea per un approvvigionamento comune per la difesa europea. Quindi, diciamo, quest'idea di un'Unione per la difesa europea che da anni, in realtà, dal 1954, quando no, il primo progetto francese per una comunità per la difesa europea che poi fallì per colpa dei francesi stessi, diciamo, no? E che però ripetutamente nel corso degli anni, anzi decenni, ritorna, in realtà inizia ad essere sostanziata. Perché però dico, appunto, solo, tra virgolette, un sei e mezzo e arriva la parte mezza vuota del bicchiere? Perché naturalmente non siamo noi che facciamo la differenza. Cioè, è evidente che se l'Ucraina oggi ancora esiste è, purtroppo, lo dico purtroppo, perché parlo come europeista, è grazie agli Stati Uniti. E non c'è partita tra Stati Uniti e Europa rispetto a quello che hanno dato e che continuano a dare all'Ucraina. Stiamo parlando di un rapporto e per Europa qua intendo tutta l'Europa, incluso anche chi nell'Europa intendo nell'Unione Europea non fa più parte, ossia il Regno Unito, che sappiamo dopo gli Stati Uniti essere il secondo paese che sostiene militarmente l'Ucraina. Quindi, se mettiamo assieme tutti i paesi europei, Regno Unito incluso, siamo comunque un rapporto sostanzialmente 5-1 con gli Stati Uniti. Quindi, è evidente che l'Europa da sola non sarebbe stata in grado di proteggere uno Stato europeo. Non dell'Unione Europea, ma ovviamente uno Stato europeo. però perché è una conclusione un po' tragica, ma che è il frutto per certi versi inevitabile della storia. Sono partita dicendo il nostro è un continente che si è disarmato. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di poterci disarmare, però ce l'abbiamo avuta perché poi c'era qualcun altro che si occupava della nostra di difesa. E adesso stiamo per certi versi pagando le conseguenze di quel qualcuno che naturalmente sono gli Stati Uniti che ad oggi continuano ad esserci. Però ricordiamoci Joe Biden è e sarà perché poi magari verrà rieletto l'ultimo presidente americano europeista e atlantista. Non quindi soltanto in un'ipotesi in cui ci dovesse essere come prima o poi succederà un presidente repubblicano ma anche un futuro presidente democratico non avrà intanto non ci avrà 80 anni presumibilmente in quanto tale non avrà quell'atlantismo congenito che hanno gli americani di un'altra generazione. Per certi versi un futuro presidente americano assomiglierà per certi versi forse più a Obama che sicuramente a un Biden. E quindi questo ci pone un enorme interrogativo perché se fino adesso sono stati gli Stati Uniti ad assicurare la difesa europea con questo non voglio dire che l'abbiano fatto per altruismo nel senso che poi la contropartita l'hanno chiesta insomma ci hanno chiesto di seguire in tutta una serie di avventure e disavventure come ad esempio l'invasione dell'Iraq e però il fatto sta che comunque la difesa europea è stata assicurata dagli Stati Uniti e domani che cosa succederà? E questo domani potrebbe essere tra un anno e mezzo sostanzialmente. Questa cosa che dici è molto interessante ti chiedo di metterla a terra e ti faccio la domanda proprio più esplicita l'Europa è in grado di difendere se stessa cioè facciamo proprio la fanta politica facciamo il risico se dopo domani l'Ucraina crolla e la Russia va avanti e va in Polonia l'Europa è in grado di difendere se stessa? No risposta secca molto bene no risposta secca ed è un no per certi versi paradossale perché se poi andiamo a vedere le spese militari europee nel loro complesso in realtà è vero che siamo molto sotto gli Stati Uniti perché siamo circa al 35 tra il 35 e il 40% delle spese militari americane nel nostro insieme ma è come se avessimo nell'Unione Europea 27 eserciti bonsai che quindi collettivamente non riescono a fare nulla e qui arriva un po' diciamo la tragedia di questo momento perché persone come me che credono come dire fortemente nell'importanza di una difesa europea per i motivi che discutavamo prima che cosa diceva in passato beh no gli europei devono spendere sulla difesa e spendere di più deve significare spendere meglio e spendere meglio vuol dire spendere insieme per la costruzione di queste capacità europee che nel tempo ci permetteranno di essere più autonomi e meno dipendenti appunto dagli Stati Uniti questo era un ragionamento che funzionava in tempi di pace quindi in tempi di pace tu che fai queste spese aggiuntive per la difesa le canalizzi le utilizzi per una costruzione di capacità europee che cosa succede però in tempi di guerra e siamo in tempi di guerra in cui molte delle capacità che abbiamo spesso malfunzionanti stiamo dando a un paese europeo in guerra che quello che spendiamo lo utilizziamo per riempire gli scaffali che si sono svuotati e quindi compriamo quel che c'è sul mercato e quel che c'è sul mercato è spesso volentieri americano e quindi compriamo gli F-35 compriamo i patrons compriamo quel che c'è quindi in realtà in tempi di guerra dovremmo non solo adesso penserete che sono una guerra fondaia però diciamo per seguire il ragionamento non solo spendere per inevitabilmente riempire quegli scaffali che si sono svuotati ma spendere ancora di più per la costruzione di quelle capacità europee che avremmo dovuto costruire 10, 20, 30 anni fa e non abbiamo fatto perché vivevamo nell'illusione di una pace perpetua qui ovviamente si inserisce il problema serio e la contraddizione importante del fatto che essere un continente in pace è molto bello e è complicato in tempi di guerra essere un continente in pace ed essere un continente pacifista in cui la stragrande maggioranza dei suoi abitanti si definisce pacifista lo stiamo vedendo con le contraddizioni che viviamo anche in Italia forse soprattutto in Italia per quanto riguarda la differenza fra una leadership sia quella passata sia quella attuale che più o meno sono allineate con quello che sta dicendo Natali Toci e un'opinione pubblica che invece è piuttosto contraria come la risolvi come la vedi questa contraddizione? Ma appunto una contraddizione che innanzitutto deve essere la contraddizione nella contraddizione deve emergere perché quella stessa opinione pubblica pacifista peraltro anche io mi definisco pacifista il punto è come definiamo il pacifismo però diciamo quell'opinione pubblica pacifista in realtà non vuole la difesa non vuole le spese per la difesa non vuole sostenere militarmente l'Ucraina però in realtà dice non vogliamo la dipendenza dagli Stati Uniti e ho capito delle due luna quindi bisogna fare un po' pace appunto con se stessi quindi se si vuole aumentare un'autonomia europea vuol dire che bisogna spendere di più sulla difesa se invece uno dice no vogliamo continuare a vivere Robert Kagan l'autore statunitense ai tempi della guerra in Iraq ha scritto appunto scrisse questo libro sul fatto che gli americani vivevano su Marte e gli europei su Venere benissimo magari adesso ci siamo resi conto che non siamo sul Venere siamo sul pianeta Terra e sul pianeta Terra in Europa e attorno all'Europa insomma succedono un sacco di brutte cose quindi delle due luna ripeto o spendiamo più sulla difesa per essere più autonomi da un punto di vista europeo oppure semplicemente ci consegniamo chiave in mano agli Stati Uniti con in più il rischio che magari gli Stati Uniti a un certo punto dicono no la nostra priorità è la Cina e vedete la voi insomma e qui introduciamo un concetto importante che è quello di autonomia strategica europea forse ne avete sentito parlare di recente ne ha riparlato per l'ennesima volta in realtà il presidente francese Emmanuel Macron che durante un'intervista dopo essere stato in Cina peraltro in un contesto abbastanza peculiare ha detto che l'Europa deve smettere di essere seguace degli Stati Uniti e deve trovare una propria dimensione alternativa come terza superpotenza di fianco agli Stati Uniti appunto e alla Cina e una delle ragioni per cui abbiamo chiamato qui Natalie Tocci è che questo concetto che è un concetto che Macron ama tantissimo ma che in generale in Europa va molto è un concetto che è stato in buona parte creato sviluppato e anche pubblicizzato in parte proprio da Natalie Tocci quando era consigliera di Federica Mogherini quando Mogherini era alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea e quindi insomma sei una delle architette diciamo della autonomia strategica europea e quindi ti chiedo anzitutto se ci puoi spiegare sinteticamente che cos'è di cosa stiamo parlando innanzitutto che cosa non è peraltro appunto un concetto che è stato oggetto di lunghissimi negoziati tra gli Stati membri quindi questo parlo 2015-2016 quindi prima appunto dell'elezione di Macron cosa non è l'autonomia strategica non vuol dire autarchia non vuol dire protezionismo cioè non vuol dire necessariamente che l'Europa deve è sola e deve agire da sola non vuol dire questo cioè il DNA dell'Europa in particolar modo dell'Unione Europea è in maniera come dire intrinseca è multilaterale e vede nell'interdipendenza nella cooperazione come dire ripeto proprio il suo DNA quindi noi siamo così siamo fondati così internamente e inevitabilmente questo sarà sempre il nostro istinto nel modo in cui interagiamo con il resto del mondo ma che cosa succede se su una determinata questione il resto del mondo non vuole agire con noi e questa questione noi la consideriamo parte integrante di quelli che sono i nostri interessi nazionali barra europee strategici dobbiamo essere nella condizione di poter promuovere e proteggere i nostri interessi barra valori perché poi queste due cose in realtà sono semplicemente due facce della stessa medaglia quando gli altri non vogliono agire con noi poi questi altri spesso appunto ritornando al discorso degli Stati Uniti spesso poi si traducono negli Stati Uniti quindi in realtà banalmente l'autonomia strategica è la capacità dell'unione di essere attore di poter agire agire preferibilmente con altri e quando necessario anche da sola quindi di fatto vuol dire questo poi questo viene declinato in molti modi diversi è declinato in termini di sicurezza e di difesa ma può essere declinato in termini economici tecnologici energetici in realtà appunto nell'ultimo anno abbiamo parlato moltissimo di sicurezza energetica in realtà la sicurezza energetica non è altro che l'autonomia strategica in ambito energetico diciamo quindi ha mille sfaccettature è un concetto che viene e soprattutto il modo in cui poi ne parla Emmanuel Macron il presidente francese tende a essere molto focalizzato sulla difesa ma in realtà il modo in cui l'utilizzo ad esempio che ne ha fatto Ursula von der Leyen la presidente della commissione europea tende a essere un concetto un po' a 360 gradi che quindi tocca varie ambiti di politiche diverse che poi si declinano in questa capacità di azione da parte dell'Unione Europea quindi diciamo che l'autonomia strategica è quella cosa per cui quando ci ritroveremo qui fra cinque anni alla quinta edizione di Voices o tra dieci alla decima edizione di Voices io ti chiederò di nuovo l'Europa si sta a difendersi da solo e tu mi dirai sì l'Europa ha una politica energetica autonoma e tu mi dirai sì è questo più o meno no? Sì diciamo che probabilmente tra cinque anni quello che ti dirò è energeticamente siamo autonomamente strategicamente autonomi economicamente barra tecnologicamente c'è un vero tema Cina e questo in realtà poi si traduce in un altro termine che è emerso molto nel dibattito europeo in quest'ultimo periodo che è l'idea del derischiare che è diverso dal disaccoppiamento il famoso decoupling tra Stati Uniti e Cina quindi mentre per gli Stati Uniti il tema Cina è un tema di competizione e quindi anche immaginiamoci uno scenario in cui la Cina è un meraviglioso paese liberal democratico ma cresce e cresce a questo ritmo per gli Stati Uniti questo rappresenta un problema perché gli Stati Uniti hanno diciamo ancora se vogliamo ambizioni di egemonia globale seppur il mondo ovviamente sta cambiando e quindi quella Cina anche democratica rappresenterebbe un problema per noi europei in realtà se quella Cina fosse democratica l'idea che la Cina stia crescendo e che ci abbia già superato diciamo non è di per sé un problema è un problema nella misura in cui questa Cina in realtà proprio alla luce del suo sistema politico diciamo ficca il naso un pochino troppo negli affari nostri e quindi diciamo l'idea di derischiare e quindi di non dipendere esclusivamente da tecnologie cinesi e questo poi rientra anche in tutto il discorso energetico se pensiamo all'ambito del fotovoltaico in realtà diciamo è parte del tema dell'autonomia strategica europea quindi diciamo c'è un tema tecnologico economico un tema energetico e poi ci sarà il tema della difesa io temo che tra cinque anni stiamo sempre a sto sei e mezzo peraltro appunto il termine autonomia strategica è un termine abbastanza prezzemolino tu dicevi lo usa Macron lo usa von der Leyen l'avete usato voi al tempo di Mogherini e così via ed è un termine che soprattutto in Italia un po' in Francia viene definito molto come cacciamo via gli americani basta dipendere dagli americani che è una cosa sotto certi punti di vista anche notevole nel senso che alle prossime elezioni del 2024 se vince un repubblicano le cose potrebbero diventare molto complicate e non a caso il termine autonomia strategica è nato mentre alla presidenza degli Stati Uniti c'era Donald Trump che aveva un'idea dell'Unione Europea un'idea della Nato li vedeva come fumò negli occhi e però la cosa interessante è che gli americani paradossalmente sono i primi fan dell'autonomia strategica europea perché anche l'idea di dover sostenere la difesa europea come dicevi tu con tutti i pro e i contro nel senso che anche gli Stati Uniti ottengono molti vantaggi dall'avere una presenza in Europa però anche un sacco di contro insomma spendono un sacco di soldi fra le altre cose loro sono i primi a dire amici europei iniziate ad autonomizzarvi strategicamente un pochino al punto che non Trump che odiava abbastanza tutte queste cose ma Barack Obama il presidente più fico degli ultimi 50 anni è uno che in un'intervista molto celebre disse che gli europei sono dei free riders che tradotto in maniera un po' colorita potrebbe vorrei dire scrocconi cioè Obama ci dava degli scrocconi perché noi usavamo la loro difesa senza dare quasi nulla in cambio ora al netto del merito di questa definizione tu come la vedi? è estremamente interessante perché in realtà perché inizia a cambiare la posizione perché oggettivamente in passato 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 non era così agli americani andava benissimo che eravamo super dipendenti da loro perché? perché quando effettivamente gli Stati Uniti prima appunto parlavo di un'egemonia globale quando veramente c'era un'egemonia globale degli Stati Uniti andava bene avere partner e alleati relativamente deboli nel senso che tanto non hai un rivale non c'è competizione e quindi alla fine hai alleati relativamente deboli che comunque alla fine poi ti seguono quindi per definizione in tutto quello che vuoi fare e la loro debolezza non rappresenta un problema perché inizia a cambiare proprio durante il periodo Obama perché in quel periodo che in realtà inizia a diventare evidente che il mondo si sta trasformando e che questa unipolarità statunitense in realtà sta man mano dando spazio a ancora non abbiamo ben capito cosa c'è chi parla di un mondo multipolare una nuova bipolarità con la Cina un mondo non polare insomma sono tante le versioni diciamo che circolano quel che è chiaro è che non sarà unipolare e se non è un mondo unipolare che quindi gli Stati Uniti come dire affrontano competizione e rivalità beh quello è un mondo in cui in realtà ti fa comodo avere amici forti non amici deboli e quindi è proprio in quel periodo che Obama inizia a parlare dell'importanza degli europei di darsi un pochino una svegliata perché ricordiamoci che poi è durante proprio quel periodo Obama che avviene che poi non è mai avvenuto ma perché poi ci sono state le primavere arabe ci sono state tutta una serie di distrazioni diciamo che hanno ritrascinato gli Stati Uniti più vicini a Europa e dintorni ma è stato proprio in quegli anni che in realtà l'ambizione di Obama era l'Asia pivot cioè l'idea comunque di questo spostamento del baricentro degli Stati Uniti verso l'Asia naturalmente pensando in primis alla Cina e quindi diciamo se gli americani si devono focalizzare su altro e le risorse non sono infinite hanno un interesse naturalmente che gli europei siano diciamo più in grado di occuparsi di loro stessi e idealmente anche di occuparsi un pochino di più del loro vicinato dal Nord Africa a idealmente anche il Medio Oriente insomma cosa abbastanza inverosimile però diciamo questo era il mondo di Obama Trump in realtà non fa che dire la stessa cosa in maniera come dire alla Trump quindi non tanto Stati Uniti continuiamo a considerarvi voi europei alleati ma vi dovete un attimino responsabilizzare Trump sostanzialmente dice il vostro di futuro non mi interessa e quindi arriva alla stessa conclusione in un modo diciamo molto più violento che è stato quello purtroppo perché poi noi con le buone non capiamo è stato quello a farci svegliare all'idea di wops allora forse dobbiamo fare qualcosa ma poi che cosa succede dopo Trump arriva Biden e Macron riprende il concetto di autonomia strategica nel dicembre 2020 quindi a un mese dalle elezioni degli Stati Uniti e perché inizia a diventare un concetto così controverso perché in realtà quando appunto lo negoziavo io con allora erano 28 stati membri quindi c'era anche il Regno Unito in realtà non era un concetto controverso cioè in questa definizione di un'autonomia strategica in cui comunque non vuol dire necessariamente che è contro gli Stati Uniti o senza gli Stati Uniti ma la capacità di agire da soli in realtà erano tutti d'accordo e soprattutto poi perché c'era Trump dall'altra parte arriva Biden e Macron riprende questo concetto di autonomia strategica e a questo punto c'è la levata di scudi soprattutto paesi dell'est Europa proprio in questo momento dobbiamo cercare di riportare gli Stati Uniti vicino a noi parlare di autonomia strategica e orticante nonostante in realtà Obama ma così come Biden adesso hanno tutto l'interesse e continuano a dircelo che ci dobbiamo dare una svegliata torniamo su questa cosa che hai detto di una certa divisione di una certa distanza di vedute fra all'interno dei vari paesi dell'Europa e dell'Unione Europea nel senso che da un lato come abbiamo detto abbiamo i paesi dell'est Europa che sono nei confronti della Russia in cacchiati neri diciamo nel senso che se parlate con un lettone se parlate con un estone se parlate con un polacco la maggior parte di loro vuole vuole i russi morti è una roba davvero abbastanza quasi viscerale mentre invece tutta un'altra serie di paesi la Germania la Francia per esempio sono molto più cauti una cosa che dice sempre Macron è Putin deve essere sconfitto ma non deve essere umiliato perché se umili Putin poi succede tutta una serie di altre cose molto brutte all'interno di questo contesto dove si pone l'Italia? L'Italia si pone in realtà per come oramai è evoluto il dibattito francese si pone in realtà e qua c'è una differenza naturalmente tra Italia che cosa intendiamo per Italia Italia governo Italia politica Italia istituzioni o Italia media opinione pubblica sono Italie molto molto diverse però diciamo la posizione ufficiale dell'Italia tanto con il governo Draghi quanto con con il governo Meloni è sostanzialmente dove sta la Germania dove sta la Francia l'opinione pubblica è un'altra questione però secondo me il punto di fondo ritornando a queste differenze e divisioni che ci sono in Europa in realtà ci sono sempre state cioè gli estoni polacchi lituani hanno sempre pensato questo anzi in realtà adesso c'è una sorte di vedi che ve l'avevamo detto e non ci ascoltavate pensavate che eravamo degli ossessionati paranoici invece guarda che cosa è successo quindi diciamo è una posizione che per certi versi a volte può anche arrivare come un po' urticante no? perché c'è un qualche cosa anche un po' di supponenza dietro a tutto questo detto questo io devo dire che la mia posizione è cambiata molto radicalmente nell'arco degli ultimi dell'ultimo anno e mezzo perché io mi sono detta ho sbagliato cioè io ero per certi versi come dire un po' la quintessenza di un'italiana che ha sempre sostenuto no? bisogna sì Putin brutto e cattivo però comunque bisogna cercare di capire come costruire ponti nei confronti della Russia quali possono essere gli ambiti in cui si continua a collaborare dall'energia al cambiamento climatico a questioni di politica estera come i negoziati sul nucleare iraniano cioè questa era l'idea che ho portato avanti per anni e a un certo punto mi sono detta oi boh insomma ho sbagliato quindi in realtà faccio diciamo questo esempio semplicemente per sottolineare il fatto che nei paesi tradizionalmente più aperti nei confronti della Russia la Spagna la Francia la Germania l'Italia in realtà c'è stato un ripensamento una presa di coscienza di forse forse non erano così paranoici stiestoni e tutto questo tra virgolette grazie a Vladimir Putin cioè se Putin facesse finta no di essere più aperta al negoziato cioè se in realtà lasciasse più spazio di far riemergere quelle divisioni riemergerebbero grazie a cielo oppure no Putin è Putin e quindi il fatto che Putin sia così estremo in realtà rappresenta un collante cioè spesso no si dice nel mio mondo un po' scherzando che alla fine Vladimir Putin va fatta una statua a Hong Kong a Schumann a Bruxelles dove un po' il centro delle istituzioni europee perché in realtà maggior collante dell'Europa per non parlare della Nato che appunto ma Kong stesso aveva definito come celebramente morta soltanto 3-4 anni fa in realtà ha riavuto diciamo una seconda vita grazie a Putin e quindi la difficoltà che abbiamo come europei soprattutto come europei ma anche diciamo come comunità euroatlantica è riusciamo a mantenere questa convergenza quest'unità anche senza una minaccia così estrema ad oggi purtroppo la risposta è no quando la minaccia si affievolisce riemergono le divisioni poco fa qui dietro mentre mentre cacchieravamo prima di entrare mi hai raccontato un addetto molto notevole su perché Putin è Putin allora Putin è Putin perché Putin in realtà si vede come cioè Putin perché ha fatto quello che ha fatto ha fatto quello che ha fatto perché vuole lasciare il suo segno nella storia e in realtà si vede in continuità con tutta una serie di leader non tanto sovietici ma soprattutto imperatori del passato a me ha colpito moltissimo qualche mese fa mi è capitato ero ad Abu Dhabi un incontro a incontrare mi è venuto un po' il volta stomaco devo essere sincera però diciamo a incontrare e rivedere Sergei Lavrov il ministro degli esteri russo vi racconto una cosa che in realtà poi è emersa quindi diciamo non sto svelando segreti e gli ho chiesto ma Putin chi ascolta adesso? E lui ha risposto dicendo beh insomma ascolta Ivan Caterina Pietro E chi sono? Quindi diciamo i suoi referenti lui vive nella sua bolla storica nella sua idea distorta diciamo della storia e quindi in realtà i suoi consiglieri sono gli imperatori del passato e quindi diciamo un Putin sempre più staccato dalla realtà sempre più e questo è avvenuto soprattutto nel periodo della pandemia in cui lui si è isolato moltissimo in cui non è che è emerso un nuovo Putin perché per certi versi in realtà bastava ascoltare quello che lui diceva anni fa io ricordo benissimo la conferenza sulla sicurezza di Monaco che è un po' diciamo nelle relazioni internazionali è un po' l'evento diciamo di punta dell'anno alla conferenza di Monaco del 2007 in realtà Putin ha detto esattamente quello che avrebbe fatto quello che poi ha fatto e che non lo ascoltava nessuno nel senso che nessuno immaginava che poi effettivamente le cose sarebbero andate così in realtà purtroppo i dittatori vanno ascoltati sempre con grandissima attenzione perché tendono poi a fare quello che dicono però ecco diciamo chi è Putin è una persona che vive diciamo nella sua bolla nella sua idea del passato e che si rifà a questi personaggi diciamo a questi imperatori e vede la sua legacy in continuità con loro si vede su una curva inevitabilmente diciamo biologicamente in declino quindi il tempo stringe e se il tempo stringe aumenta la propensione al rischio cioè c'è poco tempo e quindi qua se proprio lo devo rifare questo impero lo devo fare adesso domanda assassina quanto durerà ancora la guerra in Ucraina? Allora dipende che cosa intendiamo per la guerra se per guerra intendiamo quella che vediamo adesso penso che ci sarà adesso vediamo una controffensiva due controffensive ucraine immaginiamoci da adesso alla fine dell'anno non credo che ci saranno nuove offensive russe perché non hanno la capacità per farlo perché non c'è naturalmente la volontà di farlo e quindi immaginiamoci che gli ucraini attraverso queste controffensive riescono non riescono non lo so diciamo non ho la sfera di cristallo a riconquistare x per cento del loro territorio e che a un certo punto magari siano gli ucraini stessi è Zelensky stesso che dice benissimo adesso io sono pronta a negoziare mi rendo conto che non riesco a riprendere tutto che quindi diciamo questa situazione di stallo si consolida e quindi io sono pronta a negoziare benissimo Putin non è pronta a negoziare quindi non c'è un negoziato e quindi in questo senso dico dipende che cosa si intende per guerra credo che la guerra così come la conosciamo oggi non può durare in eterno quindi è una questione di mesi ma la guerra è intesa come non pace quindi una situazione in cui la Russia continua o meglio finché c'è Putin continua a minacciare l'Ucraina militarmente e che quindi i paesi europei occidentali soprattutto gli Stati Uniti devono continuare a mettere l'Ucraina in una posizione di potersi difendere non necessariamente riprendere ammettendo che poi magari invece gli ucraini riescono a riprendersi tutto però diciamo il punto territoriale secondo me è un punto meno rilevante perché ripeto anche nell'ipotesi in cui gli ucraini riescono a riprendersi tutto quindi sarebbero ben felici di arrivare a un accordo di pace non credo che ci sarà un negoziato e che quindi diciamo questo stato di non pace in realtà può durare molto tempo cioè può durare anni c'è chi dice no allora durerà finché c'è Putin ma forse pure dopo perché spesso l'esempio il parallelo storico che viene fatto è la fine della sconfitta della Germania nazista alla fine della seconda guerra mondiale e una Germania che cambia completamente pelle però la Germania è stata occupata cioè è difficile immaginare questo questo cambio di pelle così radicale se non ci fosse stata l'occupazione della Germania è difficile immaginare anzi impossibile immaginare nessuno vuole occupare la Russia quindi immaginare diciamo un processo di ripensamento così profondo cioè una Russia che fa la transizione tra il vedersi impero perché poi alla fine alla fine ci pensate l'Unione Sovietica è stato un impero in altra forma quindi che smette di vedersi come impero e inizia a vedersi come stato nazione inizia a vedersi come uno stato che passa attraverso la decolonizzazione e che quindi diventa un altro stato europeo ad oggi è difficile immaginarlo questo scenario sarebbe bellissimo un mondo in cui la Russia diventasse un altro stato europeo non intendo nell'Unione Europea ma un altro stato europeo ma ecco non credo che sia da questo punto di vista un punto che riguarda in maniera specifica Putin ma potrebbe anche riguardare chi viene dopo di lui e finché ci sarà una Russia che non si intende come stato ma si intende come impero continuerà a rappresentare una minaccia ai suoi vicini e in quanto questi suoi vicini sono parte dell'Unione Europea continuerà ad essere uno stato di non pace tra l'Europa e quindi l'Occidente e la Russia abbiamo terminato in questo momento il nostro tempo ma 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 rubo tre minuti al vostro paranzolo so che eravate pronti con l'applauso perché volete andare a mangiare ma ti faccio un'ultimissima domanda qui ti chiedo di essere sinteticissima cosa deve fare l'Europa per meritarsi un 10 allora deve sicuramente diciamo continuare a lavorare su quest'unità politica e per farlo credo che sia una condizione necessaria quella di ristabilire lo stato di diritto all'interno di tutti gli stati europei dell'Ungheria abbiamo un po' parlato c'è un grande tema di cui si parla purtroppo meno perché tra virgolette stanno dalla parte giusta sulla guerra ma che è la Polonia quindi c'è un tema di democrazia e di stato di diritto all'interno dell'Unione e c'è un tema di capacità industriale e quindi tecnologica e quindi un nuovo fondo per la sovranità europea un dibattito estremamente duro difficile in questo momento ma penso che sia una condizione necessaria per un'autonomia strategica europea e poi un po' quello ci siamo detti prima come dire è un dibattito molto difficile da avere con l'opinione pubblica perché nessuno vuole spendere sulla difesa ma se vogliamo essere meno dipendenti dagli Stati Uniti ahimè quello che dobbiamo fare una tradizione di Globo è come ultima domanda chiedere all'ospite tre consigli per approfondire le cose che ci siamo detti e quindi Natali Tocci ti chiedo tre consigli voi scriveteveli sulla mano avete da scrivere insomma Natali allora un romanzo bellissimo tradotto da un paio d'anni in Italia di un'autrice giorgiana Nino Haratishvili L'ottava vita che un po' ripercorre attraverso la vita di sette donne poi l'ottava è ancora una vita ancora da scrivere ma ripercorre un po' la storia di queste di queste zone diciamo quindi ovviamente parla come giorgiana ma poi riguarda l'Unione Sovietica in quanto tale sostanzialmente dalla rivoluzione del diciassette ad oggi quindi un romanzo meraviglioso e un saggio un saggio pubblicato da Edizioni E.O. l'anno scorso credo di Michel Elchaninov su Putin nella testa di Vladimir Putin che spiega molto bene è un libricino piccolo quindi si legge veramente in un paio di giorni spiega molto bene un po' appunto l'ideologia il putinismo che cos'è quel mix bizzarro che ha un po' di nazionalismo bolshevismo con un tocco come dire clericale ideologie eurasianiste e lo spiega in maniera estremamente efficace estremamente sintetica e poi una roba in senso opposto nel senso che è proprio pesantona ma veramente credo che sia un libro che tutti debbano leggere terre di sangue un libro storico terre di sangue di Timothy Snyder è un libro che a me ha toccato moltissimo ed è un libro sostanzialmente che racconta la storia delle terre di sangue quindi le terre tra Hitler e Stalin sostanzialmente Ucraina Bielorussia i Baltici Romania Polonia e Russia occidentale e quello che hanno vissuto queste terre e questi popoli dalla carestia di Stalin all'invasione nazista all'occupazione sovietica ed è una storia molto poco raccontata perché sostanzialmente quando cala la cortina di ferro ed emergono tutte poi le tragedie che sono accadute durante la seconda guerra mondiale quindi in particolar modo naturalmente l'olocausto si parla dell'olocausto soprattutto riguarda quello che è successo dalla nostra parte della cortina quando poi finisce la guerra fredda e quindi crolla il muro gli storici si concentrano su quello che è accaduto durante la guerra fredda e tutto quello che è accaduto prima in realtà viene perso sta riemergendo adesso negli ultimi anni quindi un libro ripeto devastante orribile proprio che ogni pagina adesso vi faccio passare la voglia di leggerlo però veramente credo che sia un libro che debbano leggere tutti e Natali Tocci grazie grazie mille